Ciao ragazze, allora questo è un video un po' strano, un po' particolare, si chiama Reacting to my old videos, non so che titolo metterò in italiano, comunque reazione ai miei video vecchi ed è un video che ho visto girare un po' su youtube america, mi sono detta proviamo a farlo, perché no? e quindi guarderemo assieme i miei vecchissimi video i miei primissimi video e si parla quasi di 7 anni fa, perché fine agosto, inizio settembre ho caricato il primo video del 2009 quindi sono passati quasi 7 anni, non ci posso credere sono cambiate un sacco di cose insieme in questo percorso mi avete vista cambiare, maturare, diventare più sicura di me, insomma mi avete visto cambiare anche fisicamente voglio dire e quindi sarà interessante, anche perché io non guardo mai i miei video detesto rivedermi nei video, perché trovo sempre qualche cosa che non va, cioè sono molto autocritica, quindi ho sempre qualcosa che non mi piace nei video e quindi non li rivedo mai figuratevi se mi sono mai messa a riguardare i miei primissimi video no, perché penso che sarebbe, anzi sarò imbarazzatissima in questo video quindi adesso assieme andremo a vedere questi vecchissimi e vecchissimi video i primissimi video, io ho qua pronto il mio computer sarò appunto imbarazzatissima perché secondo me saranno sceni quindi vediamo andiamo a vedere il primo video in assoluto make up tutorial brown look di fine estate così l'ho chiamato questo allora questo è l'inizio cinque stelline a volte, cioè all'epoca c'erano ancora le stelline io cercavo di essere molto professionale ma mi vergogniamo un sacco tra l'altro questo video non ero nemmeno sicura di caricarlo io non mi sono detta io lo filmo, se poi viene fuori una roba orribile nel montaggio me ne renderò conto e non lo caricherò assolutamente mamma mia, questo era il mio look che pensavo fosse fichissimo, non sapevo nemmeno applicare l'eyeliner sto applicando la base in un modo, cioè tipo cioè veramente terribile poi andava di moda quello smalto luccicante e io ne ero una fan accanita evidentemente guardate come mi metto la base sotto l'occhio tipo così continuavo a guardare i videocamera per capire se ero a fuoco o se, mamma mia la mia ricrescita bellissima cioè da notare le facce che facevo quando mi truccavo vi giuro però sono piccola qua cioè sono proprio piccolina e poi avevo le sopracciglia totalmente diverse cioè le... esageravo con la pinzetta all'epoca mi... non esagerate mai con la pinzetta ragazze guardate che roba cioè non sembrano almeno le mie specialmente quando faccio così costantemente mentre mi metto l'ombretto e sembrano... avete preso delle ali da gabbiano? terribile da notare come applicavo la matita non sapevo fare... cioè sapevo applicare la matita dai almeno questo concediamomelo concediamomelo concedetemelo sapevo applicarla alla matita però non sapevo fare la codina finale e quindi veniva tipo mollata la 10 kg di mascara vabbè questo è sempre stato così poi ridevo come una psicopatica quando mettevo il blush oddio che mi ha parlato della psicopatica cioè guardatevi mamma mia perché all'epoca ho sentito che per... cioè ma è vero alla fine per intravedere le zone dove applicare il blush bisogna ridere e quindi io ogni volta che applicavo il blush anche se ero tipo concentratista tipo tutto ad un tratto blush tremendo tremendo poi naturalmente gloss glitterato sulle labbra che tutte cioè mi ricordo che mi scrivevate ma perché non metti un bel rossetto opaco ti starebbe così bene e io no mi stanno malissimo i rossetti opati devo mettere gloss brillantinati in realtà avrei dovuto ascoltarvi poi avevo la faccia arancio e il collo bianco tremendo vediamo make up tutorial l'oreal color appeal più guest star perché c'è odri nell'anteprima mi voglio vedere la gatta stellina e sui toni io pensavo fosse un maschio mamma mia mi ricordo d'oro bronzo stavo cercando un nome ma pensavo fosse un maschio aggiornamento l'ho chiamata odri oddio l'ho convinta che fosse un maschio fino a quando l'ho portata a fare il primo vaccino ma tipo due giorni dopo e la veterinaria mi fa io è un maschio penso di chiamarlo Romeo lei no veramente una femmina e io alla veterinaria è sicura secondo me è un maschio cioè io convintissima oddio gatta stellina oddio piccolissima oddio gatta stellina non ci posso credere aveva gli occhi azzurri adesso gli averbi sono cambiati oddio com'era piccolina era una tigotta adesso ha già sto pelo lunghissimo mamma mia voglio un gattino voglio un gattino oddio vi giuro voglio un gattino piccolo era tutto piccolino qui ero nella cameretta a casa di mia mamma nella mia cameretta anche lì ero già fissata con le fatine potete vedere nel background applico sempre il mascara in questo modo assurdo che sembro fuori di testa però questa era la mia cameretta ci sono molto molto affezionati e voilà questo è tutto mamma mia ditemi che cosa vede sembra di quei look però secondo me non erano male a parte la matita che non sapevo come applicare andiamo a vedere un video che ha fatto un sacco un sacco un grosso successo come creare i boccoli con la piastra perché allora in tante mi avete detto che questo video vi ha aiutato io mi vedevo io mi vedo in questo video nell'intro o scena avevo gli occhi gonfi non capisco perché mi ero dimenticata di stendere il mascara perché io non lo vedo e le sopracciglia così sottili che io non riesco a capire vi prego ve lo ripeto ma non esagerate con le pinzette perché vi cambiano il viso e io non so perché avevo la fissa addirittura anche così davanti alla tv io sentivo cioè si me ne vergogna ma io sentivo dove avevo tipo qualche pelucchio e me lo toglievo ma evidentemente esageravo perché tipo cioè non avevo sopracciglia cioè erano tipo metà di quello che ho adesso del mio sopracciglia naturale perché all'epoca andavano di moda un pochino più sottili all'epoca nel 2009 almeno da me andavano ditemi che vero vi prego andavano di moda le sopracciglia un po' più sottili qui i miei intro lunghissimi come al solito stavo parlando di questa piastra che era la prima piastra che io avevo tra l'altro della Remington che me l'aveva regalata mia mamma facevo questi ho fatto questi boccoli tipo dritti fino a qua cioè almeno so che la tecnica di come fare i boccoli vi ha aiutato però cioè li facevo in modo assurdo perché li facevo dritti fino a qua e poi facevo questi boccoli super definiti tipo alla riccioli d'oro cioè non andavo nemmeno un po' a smollarli un po' a passarci le dita cioè no li lasciavo proprio così e io in questo video sono veramente oscena da notare la matita spessissima alla fine dell'occhio che è una cosa imbarazzante da notare che sbagliavo perché giravo le ciocche verso l'interno invece che verso l'esterno quindi il risultato non è molto molto naturale però era un look che mi piaceva un sacco e ai tempi io usavo la piastra ogni giorno era cioè la morte veramente la morte dei miei capelli perché li ho rovinati un sacco ma io usavo la piastra ogni giorno poi ho smesso cioè guardate usciva fumo dalla piastra questo è ovviamente è solo perché il termoprotettore li aveva leggermente bagnati quindi è solo il vapore però mamma mia cosa non ho fatto ai miei capelli ancora adesso non sono bravissima me ne rendo conto però all'epoca con la piastra ogni giorno era veramente andiamo a vedere la mia collezione sistemazione make up il primo video che ho fatto sulla mia collezione di make up ecco io avevo questi oddio chissà che fine hanno fatto questi mobiletti non mi ricordo proprio dove li ho messi se li ho buttati cioè assurdo qui era prima che le aziende cominciassero a spedirmi i prodotti e infatti se le aziende non mi spedissero i prodotti questi sarebbero più o meno i trucchi che io avrei che sono comunque tanti però questi erano proprio i trucchi che avevo preso io tutto mi ero fatto il portapennelli io con la sabbia colorata con gli adesivi con le farfalline questi erano tutti i miei smalti tipo 6 con tutti i miei ombretti era tutto mac praticamente ah no un paio di smalti vedo della Ico già me li avevano spediti il portapennelli che avevo preso dal sito di Elle Blair poi avevo questi mobiletti ero super super soddisfatta di questi mobiletti che avevo trovato non mi ricordo nemmeno dove ci ho messo tutti i cuoricini senti me qui proprio si vede che io c'è youtube o no youtube sono sempre stata fissata con me con un sacco di ombretti Kiko tutta roba di Lookiti tutte le mie palette mamma mia le 88 colori ve la ricordate le 88 colori ce l'ho ancora oddio ah poi Chanel già ero fissata con Chanel mamma mia uh qui io quando ho menzionato le goccine di silicone mi ha attaccato tutta youtube che il silicone fa male ma io mi ci trovavo bene non sapevo e poi cos'era un catalogo benefit a ripensarci che adesso la benefit ci sono in contatto e mi spediscono le cose e mi invitano nei viaggi è incredibile veramente sono tanto fiera di quello che ho costruito ma ovviamente lo devo a voi insomma voi siete parte di tutto ciò abbiamo costruito questa cosa insieme ed è bellissimo incredibile l'illuminazione l'illuminazione era pessima veramente imbalazzante però mi è piaciuto questo video mamma mia questa era la casa vecchia me la ricordo oddio vabbè vediamo un altro video vediamo un altro video ci sto prendendo gusto mi piace sta roba e te lo so non ero mai andata a vederli mai poi vediamo Tiffany & Co inspired e surprise allora all'epoca quando ho creato questo trucco mi sembrava il trucco più figo del mondo io ero molto molto orgogliosa perché sotto avevo messo una specie di trucco da regina delle nevi avevo messo i glitterini argentati questo ombretto verde azzurro le unghie sono più o meno le stesse si vede anche tra l'altro una parte del calorifero a destra con non so cosa c'era appoggiato sopra e invece pessimo non guardavo neanche le inquadrature ma mi ricordo che questo trucco era il più figo del mondo secondo me io poi l'ho messo online e in tantissime mi avete detto no veramente Nicola non è proprio il massimo è un po' troppo forte alcune erano state più carine altre un po' meno nel dirmi che questo trucco poi sui miei occhi non era proprio il massimo perché voi lo sapete se gli occhi azzurri non è che l'azzurro renda tanto insomma il viola l'arancio l'oro il bronzo sono più consigliati io però ero convinta questo è il trucco più figo su youtube avevo messo queste ciglia finte che non so perché erano nuove ma se erano tutte rovinate ma secondo me era il trucco più figo presente proprio su tutta youtube international poi qui per la prima volta avevo usato il trucchetto dello scotch ed ero molto molto fiera di me vediamo il terzo video abbiamo visto il primo e vediamo il terzo video che ho mai fatto mac haul i miei ultimi acquisti alla mac qui sempre le stesse sopracciglia terribili avevo la fissa di mettermi i fiori in testa all'epoca apparentemente anche questo andava di moda ditemi che vero vi prego anche qui beh almeno lo dicevo di essere super emozionata anche qua viso arancio e collo bianco purtroppo questa è una mia preoccupativa collo bianco team collo bianco hashtag team collo bianco direi qui avevo comprato le mie prime palette vuote per metterci le cialde d'ombretto ed ero molto fiera di ciò i miei haul erano solo mac in quel periodo ero non fissata ma di più però una cosa di positivo c'è allora l'audio fa schifo musica di sottofondo non esisteva l'illuminazione faceva schifo però i miei occhi risaltavano e cosa avevo preso qua ah sempre ovviamente pigmenti roba varia tutto mac mamma mia che noia ma perché mi seguivate cioè erano veramente noiosissimi i video una volta sui video non esisteva musichetta niente cioè e alla fine non sapevo mai come chiuderli i video mi vergognavo un sacco mi vergognavo troppo vabbè ragazze questo per oggi penso che possa bastare perché ho visto che ho registrato quasi mezz'ora di filmato ma fatemi sapere se vi è piaciuto questo video se ne volete altri potrei fare anche un reacting to my old photos quindi potremmo guardare assieme anche le mie foto di quando ero più piccolina e commentarle assieme imbarazzantemente non so se esiste questa parola ma voi lo sapete io le parole le invento sempre nei miei video faremo un vocabolario nicolesco quindi fatemi niente fatemi sapere se vi è piaciuto questo video scrivetemi tutto nei commenti io li leggo sempre tutti adesso vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima ciao